Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla Lux20S Service. Oggi ci siamo spostati nel nostro studio per presentarvi un prodotto eccezionale, un prodotto audio di fascia alta della DB Technologies. Oggi parliamo di casse audio top di gamma, parliamo dell'Ingenia IG3, un fantastico impianto, una cassa eccezionale che racchiude una lunga esperienza in design acustico. Vediamo le caratteristiche di questa cassa. Allora, intanto vediamo che questa cassa ha due woofer da 10 pollici ed un driver da 1,4. Tutti i modelli della serie Ingenia sono progettati per operare sia singolarmente che in coppia, capovolti l'uno sull'altro, perché fra di loro si possono anche collegare. Grazie alla tecnologia Infrarossi, ogni Ingenia può individuare la presenza di una compagna e settare automaticamente il sistema per assicurare una corretta copertura e coerenza acustica. Come vedete abbiamo un ottimo design. Il design della tromba è simmetrico orizzontalmente e asimmetrico verticalmente. In questo modo la dispersione orizzontale è ampia e costante, mentre quella verticale è stretta nella parte alta e più ampia nella parte bassa. Andiamo a vedere i dati tecnici. Allora, solitamente la cosa più importante in una cassa audio di fascia alta di livello alto è sapere quanta pressione sonora ha, quindi l'SPL massima. Bene, questa cassa, l'Ingenia NG3, ha 132 dB di SPL, che è davvero tanto. Ricordatevi che è un doppio woofer da 10 pollici. Come vedete troviamo il pannello di controllo col suo amplificatore. All'interno, al bordo di questa cassa, viene montato un amplificatore DigiPro G3 in classe D, che sprigiona una potenza di 1800 Watt, 900 Watt in RMS. Cioè abbiamo un'interfaccia OLED, display, abbiamo anche una monopola rotativa per il menu. Abbiamo un segnale Inpto XLR o Jack e un segnale Out sempre in XLR. Pesa solamente 20 kg, anche perché abbiamo dei woofer al neodimio. Abbiamo una larghezza di 28 cm per un'altezza di 80 cm per una profondità di 40 cm. Quindi le dimensioni sono anche molto ridotte, ma la cassa sprigiona davvero tantissima potenza. Oggi la proposta che vi fa la Luxeventi e Service è davvero interessante perché vi fa risparmiare circa 1000€ rispetto al mercato. L'offerta che vi facciamo è di una coppia di due Ingenia IG3, quindi due casse Ingenia IG3, più le cover, dietro ne vedete una già con la cover inserita, più due cover, quindi originali, più due stativi cassa, tutto completo a soli 2300€. Vi ricordo che parliamo di un prodotto di fascia molto alta, quindi già con questo impiantino, anche se sembra piccolo, ripeto, è molto potente, potete utilizzarlo pure per fare degli eventi anche all'aperto, in spazi diciamo abbastanza medio-grandi. Poi se lo completate con dei sub, ancora meglio, si possono fare davvero delle cose eccezionali, sia nell'ambito live che nell'ambito dance. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se non vi siete ancora iscritti alla pagina Facebook, iscrivetevi. Se non vi siete iscritti al nostro canale YouTube, fatelo subito perché per tutti i nostri iscritti al canale diamo anche delle offerte imperdibili. Il canale YouTube è Luxe Eventi e Service. Vi aspettiamo al prossimo video, grazie per averci guardato, mettete un bel mi piace e ci vediamo! Grazie per aver guardato, mettete un bel mi piace e ci vediamo!